Ciao a tutti, smetti di attrarre ciò che temi. Questo è fondamentale. Spesso e soprattutto nelle relazioni sentimentali attraiamo ciò che temiamo. Cioè attraiamo ad esempio persone che ci fanno vivere l'abbandono che è proprio quello che temiamo, non vorremmo viverlo eppure attraiamo persone che ci fanno vivere l'abbandono. E questo capita molto spesso quando abbiamo una distonia tra la sfera logica e la sfera emozionale. Attraiamo invece di attraere ciò che gradiamo attraiamo ciò che da un punto di vista logico rifiutiamo. E quindi tutto questo cosa genera? Genera sofferenza. Perché se non generasse sofferenza non ci sarebbe nessun problema. Basta attraere qualcosa ma invece attrai proprio ciò che temi. o perlomeno ciò che temi è a livello energetico tipo la paura dell'abbandono. Ma tu attrai quella tipologia di persone che ti vanno a generare la paura dell'abbandono. Oppure potrebbe essere la paura della disistima. Oppure potrebbe essere la paura di essere inadeguato. Insomma vai ad attrarre chi ti genera i tuoi demoni. E bisogna smettere di fare questo. Ma uno dice come faccio a smettere di fare questo? Bene, è molto semplice. Se insegni a creare un'associazione tra sfera logica e sfera emotiva. Quindi l'associazione tra sfera logica e sfera emotiva permette automaticamente di andare a smantellare i tuoi demoni. Permette automaticamente perché tu insegni alla tua parte emotiva di non bere più da quella sorgente. Non è che i tuoi demoni spariscono di fatto ma li togli cibo, li togli nutrimento. C'è un detto che dice dentro di noi abbiamo due lupi un lupo buono e un lupo cattivo. Quale dei due vince la battaglia? E la risposta è quella cui dai da mangiare. Quindi in questo caso allineando la sfera logica e la sfera emotiva di fatto vai a togliere cibo ai tuoi demoni. Di fatto vai a togliere cibo emotivo al lupo cattivo e questo prima o poi morirà e tu gli farei fare una morte lenta. E morendo il lupo cattivo moriranno anche tutti i rompicoglioni che sto lupo cattivo si tira dietro. Cioè tutte le persone che poi ti darebbero sofferenza. Tutti gli amori sbagliati te li togli finalmente dei coglioni una volta per tutte. Devi però imparare a creare quest'alleanza e ci sono diversi sistemi di autosomministrazione di tensioni emotive di ristrutturazione. C'è un metodo che ho ideato proprio per andare a modificare l'apparato emotivo e farlo allineare alle esigenze logiche. Questo è veramente fondamentale perché ti permette di stare bene fondamentalmente. La sensazione che provi è una sensazione di forza di energia, di benessere. E imparare a fare questo è fondamentale. Se vuoi provare a imparare questo metodo che ti darà sicuramente dei grandi benefici puoi venire a venerdì 27 aprile a Torino presso l'Educatorio della Providenza in corso 3013 perché farò proprio un seminario dal tema Smetti di attrarre ciò che temi e di conseguenza attrai ciò che invece ti darà gioia, piacere, energia. L'uomo dei tuoi sogni, la donna dei tuoi sogni, non quelli tormentati ma quelli che veramente ti faranno stare bene. Il riferimento se sei interessato è il 333 15 11 703. Ti ricordo che l'appuntamento è venerdì 7 aprile ora 20.45 a Torino presso l'Educatorio della Providenza in corso 3013. Bene, ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Quindi mi raccomando iscriviti al canale. Ciao!